La farmacia è luogo di riferimento per tutte le famiglie. Fin dal primo momento di questa emergenza, il farmacista è stato a disposizione del cittadino, ma nonostante tutto l'emergenza continua. Alcuni consigli per viverla in sicurezza. Se hai esigenze di farmaci, contatta preventivamente la tua farmacia. Diminuirai il tempo di attesa, aumentando la sicurezza per te e per gli altri. Quando vai in farmacia, ricorda di indossare sempre una mascherina. Igenizza le mani sia all'entrata che all'uscita. Mantieni sempre la distanza di sicurezza tra te e gli altri. Il tuo farmacista sarà pronto ad aiutarti ogni qualvolta avrai bisogno di un consiglio. C'è una farmacia in ogni paese, anche il più piccolo. E sarà sempre al tuo fianco. Nella gestione dell'emergenza Covid, tanti sono i soggetti che si sono distinti nella nostra regione, dando un contenuto importante. Uno di questi, sicuramente, è il mondo delle farmacie marchigiane. In tanti non hanno mai lasciato il loro impegno, il loro servizio, dando anche spazio a quella attenzione che il cittadino cercava. Un rapporto più proficuo di quello che già è molto forte con la regione Marche nel rendersi disponibili ad allargare l'offerta di farmaci nei confronti dei cittadini spaventati dall'emergenza e che hanno trovato costantemente nelle farmacie un punto di riferimento. Sempre in prima linea, vicino alle persone che hanno bisogno. E da questa esperienza non fa altro che rafforzarsi il rapporto fra i giovani e le farmacie delle Marche, pronti ad affrontare nuove sfide e ad aggiungere nuovi servizi.